l'atmosfera si sta facendo incandescenti il partito della libertà è nel marasma più completo ha un atteggiamento fracchiano è un neologismo che da me inventato per dire alla fracchia si arrotola nella poltrona non sa più cosa fare tirano fuori dei provvedimenti che non hanno logica e non sono neppure costituzionali perché l'annullamento delle multe crea una disparità tra i cittadini milanesi che magari hanno già pagato o addirittura quelli che non hanno subito delle contravenzioni che hanno ottemperato alle regole vedete voi quindi da una parte potranno guadagnare 10 dico 10 voti e dall'altra parte ne perderanno 100 i cittadini ligi chiaramente andranno contro questo provvedimento e contro chi lo ha promosso allora io vorrei dare un suggerimento però al al partito della libertà ma volete esserci certi di vincere questo ballottaggio è semplice fate un decreto legge che come sappiamo ha efficacia immediata salvo poi entro i 60 giorni essere confermato dal parlamento in questo decreto legge cosa cosa chiedete vengono sequestrate tutte le cartelle elettorali che portano la firma a favore del nemico cioè in poche parole coloro che non hanno votato la moratti non avranno più la possibilità di far valere il loro il voto a loro favore questo perché così voi avrete vinto senz'altro ma come ma smettiamola con questi comunistati comunisti ma che di questi sono dei bolshevichi in questa maniera se dovessero vincere ci dovremmo aspettare che sulla piazza del duomo di milano e arrivino i cosacchi a cavallo a questo proposito vorrei ricordare un passato non molto lontano quando l'anno scorso che da fi fece la visita a in italia e il nostro premio e lo accorsi con tutti gli onori e gli oneri addirittura permise che fosse una cavalcata di 30 cavalli berberi fieri nella sua indipendenza della steppa e il terrore fu che gli fosse dato il permesso di abbeveraggio dove alla fontana di trevi per cui se anche questi diciamo cosacchi dovessero arrivare in italia e dovessero andare sulla piazza del duomo c'è un precedente che è a detrimento e a scapito di chi l'ha creato già una prima volta passiamo da ad altri argomenti ne lasciamo perdere queste facezze qui c'è una situazione come dire non di stallo ma di lotta continua altro termine comunista caro il mio presidente della repubblica siete voi presidente del consiglio scusi scusate l'absur ma non è froidiano è lei che ha creato questo clima di come dice di guerra civile di contrapposizione di l'un contro l'altro armati ma cosa pensa di fare in questa maniera la gente ha capito come dite voi avete detto abbiamo capito e ora provvederemo no non avete capito un tubo voi non avete capito che la gente ha bisogno di calma di tranquillità di serenità di compostaggio di futuro di speranze e non più di certezze del niente come avete proposto fino ad ora voi e come continuate a proporre a lunedì